Rossella in onda tra 20 secondi. Per la naturale funzione del mio sistema immunitario e la salute di ossa e muscoli, ogni giorno io scelgo DD3. DD3 è il nuovo integratore a base di vitamina D3. Facile da assumere in film da sciogliere in bocca senza acqua al gusto fresco di menta. Fai come me, non rinunciare al tuo benessere. DD3, i benefici del sole a portata di mano.